da qua siamo dove principe arrivo in fondo fino davanti alla commenda 200 persone e poi ieri erano 250 i tamponi massimi che hanno potuto fare anche oggi si torna domani 30 persone al giorno i tamponi, sierologico, qualunque cosa 30 persone al giorno a tra in sede dalle 8 entro le 9.30 l'accesso numero illimitato sono pregati di allontanarsi dalla struttura e andare verso le macchine perché sennò siamo in troppo e chiediamo di non fare nulla per favore grazie la struttura la struttura la struttura la struttura 160 euro la struttura 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 Grazie a tutti.